La preparazione dei piatti va di pari passo con la preparazione della sala e l'abbinamento dei vini. Soddisfazione per i docenti e il dirigente scolastico dell'Istituto Alberghiero, per le professionalità che negli anni si formano e i progetti realizzati, che coniugano il rispetto dei sapori e le tradizioni culinarie dell'isola. Sì, una grande soddisfazione e un grande orgoglio per tutti noi. Questi riconoscimenti sono il frutto di un grandissimo impegno da parte dei ragazzi e di una grandissima collaborazione da parte di tutti i colleghi dell'Istituto, dai collaboratori tecnici di Sala e Cucina, dai colleghi di Sala, anche dalla dirigente scolastica la presiderando, che accoglie sempre in maniera molto positiva ogni nostra proposta, ogni nostra iniziativa. Ma è importante, fondamentale, soprattutto quello che sta tornando indietro da quello che stiamo proponendo al territorio, ovvero il territorio sta rispondendo in maniera sempre più propositiva e accoglie sempre in maniera positiva ogni nostra richiesta. Ringraziamo le aziende del territorio che collaborano con noi dall'azienda Sabatinaccia, che grazie all'olio IGP Toscano Biologico, l'alunna di maggio è riuscita ad avere questo importante riconoscimento dal consorzio dell'olio IGP Toscano. Poi ringraziamo comunque anche tutte le aziende del settore, dal Caprile di Marina di Campo, da tutti i ristoratori e le aziende del territorio che tutte e qualvolta si organizza un evento in istituto e c'è da premiare i ragazzi, offrono sempre qualcosa, dai percorsi degustazione che possono essere stati offerti dal ristorante Il Gastronomo di Marciana Marina, al percorso degustazione del ristorante Stella Marina di Portoferraio, all'azienda Tecnobar, sempre molto vicino e attenta alle nostre richieste e esigenze. Insomma, siamo molto contenti e soddisfatti. Anche il signor Nocentini è sempre molto attento e vicino al nostro istituto, la famiglia De Ferrari. Insomma, siamo davvero molto contenti come docenti, come istituto, perché il territorio ci sta rispondendo in maniera positiva e credo in questo momento di enorme sofferenze e difficoltà nel reperire personale, nell'ambito ristorativo, credo che il territorio debba continuare e anzi investire sempre più nel nostro istituto, perché davvero in una realtà come la nostra, una realtà elbana che vive di turismo, è davvero triste vedere sempre più aziende, non riuscire magari a portare a termine la stagione, addirittura neanche ad iniziare la stagione, perché non riescono a reperire personale nel settore dell'enogastronomia. Quindi ho un appello che rivolgo al territorio, è proprio quello di investire nei giovani, investire negli istituti alberghieri, perché investiamo nei ragazzi, investiamo nel futuro delle nostre aziende, investiamo nel nostro territorio e quindi penso che sia un riscontro positivo per tutti noi. Un istituto che forma professioni importanti, sempre più ricercate nel settore turistico elbano. Sul territorio c'è una grandissima richiesta, visto che l'Elba è fondata sul turismo e sulla enogastronomia, inoltre sono tantissime le aziende che lavorano nel settore, quindi insomma c'è grande richiesta di personale. Noi cerchiamo di formare i futuri lavoratori del settore ristorativo, sia di sala che di cucina, e ci impegniamo insieme a colleghi, insieme alla dirigente, a mettere in atto sempre i progetti allo scopo di migliorare, a crescere le professionalità e le competenze di questi ragazzi, proprio per prepararli al loro futuro. Fondamentale è che il territorio, come sta facendo, continui a scoglierci e ad aiutarci a portare avanti queste professionalità, a farle crescere, in modo che i ragazzi riescano poi a realizzare, arrivare in alto, a realizzare i loro sogni. La scuola si è consolidata nel tempo, diventando sempre più un punto di riferimento per il territorio. Si dice orgogliosa dei ragazzi e dei successi riportati, la dirigente scolastica Alessandra Rando. Sì, sono veramente orgogliosa di presentare i successi dei nostri ragazzi, che stanno aumentando nel tempo. La scuola si è consolidata, è diventata un punto di riferimento anche per il territorio. Ma la cosa più importante e la presentazione più bella l'hanno data i ragazzi, perché potete vedere la passione che loro ci mettono in quello che fanno, gli occhi che brillano, hanno la volontà di seguire comunque questo percorso e quindi noi abbiamo il dovere di sostenerli. Ma devo dire che tutto questo non sarebbe possibile senza dei professori e dei tecnici di sala e cucina, che comunque sono sempre disponibili, sono anche loro appassionati del loro lavoro, sono sempre pronti a mettere in campo novità e a avere collegamenti comunque continui con il territorio, perché quella è la seconda parte. Noi siamo l'esempio di un circolo virtuoso che si può realizzare sul territorio, quindi da una parte c'è la scuola, ci sono le istituzioni, ci sono i nostri ragazzi e dall'altra parte ci sono le aziende del territorio e sono sempre pronte a sostenerci, anche perché a mio avviso vedono dei risultati importanti, vedono che da questa parte c'è serietà, c'è impegno e che i ragazzi riescono a cogliere comunque sempre i frutti del lavoro che noi mettiamo in campo per loro. E quindi sono veramente contenta e spero che questo concorra anche ad aumentare un po' il livello della qualità della ristorazione all'Elba, perché si sa che si può contare su ragazzi che hanno fatto un percorso di studio importante e quindi possono portare dei contributi anche per lo sviluppo di questa parte agroalimentare e della ristorazione all'interno del nostro territorio.